Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta all'acqua al cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, olio di semi di arachidi, vanillina, farina, zucchero semolato, mezza fiale d'essenza di arancia, cacao amaro, lievito per dolci, gocce di cioccolato e un pizzico di sale. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Lui uniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo la farina di tipo 00, l'acqua, il cacao amaro, il lievito per dolci, la vanillina, un pizzico di sale, l'aroma di arancia, l'olio di semi e facciamo amalgamare per 2 minuti a velocità 4. Versiamo adesso il composto in uno stampo per torte del diametro di 24 centimetri e foderato sul fondo con carta da forno e imburrato ai laterali. Mettiamo le gocce di cioccolato. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 25-30 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta all'acqua al cacao. Grazie e alla prossima ricetta! La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo.